Intervenire al più presto per risolvere la questione relativa alla carenza di loculi nel cimitero di Barcellona a Pozzo di Gotto. A sollecitare l'amministrazione comunale sono i gruppi Partito Democratico e Avanti Confiducia. In una lettera inviata al sindaco Roberto Materia e al presidente del Consiglio Giuseppe Abate, sostengono che la precedente amministrazione aveva dato una precisa direttiva per avviare le procedure. Vista l'attuale situazione, che vede Salme in attesa di sepoltura, PD e Avanti Confiducia fanno rilevare che nella zona del cimitero monumentale risultano scadute numerose concessioni che potrebbero essere disponibili per nuove tumulazioni, dato che il regolamento vigente prevede una concessione di 75 anni. I loculi le cui concessioni non saranno riconfermate agli eredi possono quindi essere acquisiti al patrimonio comunale in base al vigente regolamento di polizia mortuaria. Bisogna quindi avviare le procedure previste e quindi intanto avvisare la cittadinanza dell'avvio delle stesse. Si dovrà poi pubblicare all'albopretorio, in luoghi pubblici, sul sito web del Comune e accanto al cancello del cimitero la lista delle concessioni scadute, inviandola alle prefetture e ai comuni italiani, invitando i familiari a rivolgersi all'ufficio servizi cimiteriali. Bisogna inoltre tenere conto che si tratta di una zona del cimitero sottoposta a vincoli e condizioni di tutela paesaggistica da parte della sovrintendenza dei beni culturali di Messina. Una circolare stabilisce le modalità di intervento a seconda delle esigenze. Il Partito Democratico e Avanti Confiducia invitano quindi l'amministrazione comunale ad avviare questo tipo di procedure per affrontare l'emergenza. Secondo le previsioni potrebbero essere recuperati da 600 a 900 loculi, oltre a riconfermare concessioni che servirebbero a migliorare il decoro.